Ciao amici di Super, come state? Sono Laura Esquivel e sono tornata qui in Italia per realizzare due speciali su di me e anche su tutta la storia di Love Divina e tutti i personaggi. Allora vi aspetto un bacione molto grande, ciao! Il 28 e 29 agosto alle 13.45 non perdete in esclusiva i due speciali con Laura Esquivel. Ci sarà anche Alessio Bernabei, solo su Super!